buongiorno a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video con ciuffo di capelli sparso scherzo oggi parleremo di parmigiani fleurie allora dove eravamo rimasti con parmigiani fleurie con parmigiani fleurie ricordo parliamo di una casa di alto orologeria fondata nel 1996 a fleurie dal restauratore maestro orologiaio di grandissimo livello uno dei migliori in assoluto michel parmigiani il quale malgrado il mio tentativo di pronuncia francese parla un perfetto italiano e si deve a lui il restauro della collezione sandos a volte anche la ricostruzione dei pezzi della collezione sandos con otomi ed è una casa che dal 96 si distinta per il livello assoluto tecnico e di finiture nel campo dell'orologia indipendente non ha ottenuto il successo non di critica ma di pubblico che avrebbe meritato qualcuno dice soprattutto per ragioni di marketing e di estetica dal forse 2019 2018 non ricordo bene è diventato CEO di parmigiani fleurie guido terreni che è stato lungo a capo di bulgari e voi sapete bulgari la riuscita commerciale che ha avuto e guido terreni devo dire sembra aver infuso una nuova energia in parmigiani fleurie senza tradire ciò che la distingue ma con un'estetica che viene meglio accettata che ha un giudizio più ampiamente positivo dico ampiamente in termini di numero di persone che lo esprimono con la nuova collezione tonda ha introdotto orologi semplici di straordinaria eleganza e di straordinaria fattura penso al attrappante ma penso anche a quel magnifico solo tempo 36 mm tonda pf che si è visto e le nuove sfere che secondo me pur mantenendo l'idea delle sfere scheletrate sono più belle sono più belle più moderne e insomma secondo me sono sono migliorati su ogni piano e oggi parliamo di un pezzo eccezionale perché mentre parmigiani continua naturalmente a proporre orologi più semplici al suo pubblico in realtà però per fortuna continua anche a proporre i suoi capolavori l'anno scorso io avevo fatto un video di cui metto il link qui sotto su un pezzo unico da tasca meraviglioso la rose carré chiamato un pezzo che aveva come caratteristica allora prima in tutto c'era un calibro di lise lise lui piguet un antico calibro da tasca con grande sonneri che parmigiani aveva complato tanti anni fa e poi l'aveva messo da parte in attesa di una no di un di un restauro e poi di incassarlo da qualche parte poi l'anno scorso infatti ha presentato questo pezzo unico da tasca la rose carré con grande sonneri con questo calibro prestigioso di lise piguet ma ma con soprattutto una cassa con smalto gran feu sia davanti sia dietro in grande quantità che copre un incisione a mano con disegni particolari lì trovate tutto nel video di cui metto il link sotto trovate tutto la il motivo di base la la rosa la rosa squadrata la rose carré che si traduce malamente così è un pezzo unico ora in occasione del settore 72esimo compleanno il 2 di dicembre di michelle parmigiani è stata presentata le rose carré che sono una serie di cinque roggi stavolta da polso stavolta con calibro di manufattura parmigiani fleurier non con la gran sonneri ma con la ripetizione minuti cattedrale cosa vuol dire cattedrale che ha solo due gong due martelletti ma che i gong fanno quelle molle no che sono i timbri dell'orologio cioè quelle che producono il suono che sono tradizionalmente attaccati al movimento qui fanno più giri sono più lunghi per dare un suono più profondo più ricco in realtà devo dirvi questa novità che credo fu introdotta da patek philippe negli anni 90 sul 50 14 se non ricordo male che aveva anche il calendario perpetuo a me non è mai piaciuta tantissimo del suono cioè non ho mai sentito una ripetizione o sonneri cattedrale con un suono che mi piacesse di più rispetto a una ripetizione minuti tradizionale anzi accadeva al contrario però questo potrebbe invece suonare benissimo tra l'altro questo questi orologi da polso appunto con calibro di manufattura ripetizione minuti cattedrale con come vedremo punti scheletrati sono cinque pezzi quindi cinque pezzi di fatto cinque pezzi unici e lui in occasione il 2 dicembre scorso del suo 72esimo compleanno ha presentato il primo la rosa celeste si tratta come vediamo come vedremo fra pochissimo di un alloggio in oro bianco di 42 mm di diametro e 13,39 di spessore con una cassa signori che sia per la decorazione sia per per il risultato finale secondo me cassa e quadrante e fondello sono strepitosi andiamo a vedere guardate che meraviglia la cassa in primo luogo è decorata a mano col motivo della rosa squadrata a bulino sia sulla lunetta sia per tutta la carour sia sul bordo del fondello insomma un capolavoro poi guardate il quadrante il quadrante a sua volta ha vari strati di smalto blu granfe con una lavorazione grenè comunque realizzata anch'essa a mano e poi guardate il fondello il fondello con motivi della rosa squadrata e sopra sei strati di smalto granfe blu che ne danno lucentezza ed evidenziano la profondità ma naturalmente il fondello si apre tra l'altro il fondello fa da cassa acustica di risonanza per i timbi cattedrale e guardate qui che meraviglia il calibro pf 355 tutto scheletrato ripetizione minuti cattedrale con le finiture migliori ovviamente che ci possono essere nel mondo orologero questo come dicevo è il primo dei cinque le rose carré quindi saranno cinque pezzi unici ciascuno con qualcosa di diverso il fatto che questo si chiami la rose celeste mi fa pensare che altri avranno altri colori o forse potrebbe essere un qualcosa che non fa riferimento al celeste perché poi è un blu più che un celeste è quello che diciamo così rappresenta lo smalto granfe il colore dello smalto granfe quindi magari è un concetto più spirituale quello del celeste comunque sia ne vedremo altri quattro questo pezzo unico costa 600 mila franchi svizzeri non mi chiedete se c'è l'iva o meno o le tasse italiane ne dubito ma insomma non è non diventa così determinante diciamo pezzo bellissimo pezzo capolavoro e devo anche dire per i suoi contenuti non solo merita tutti i 600 mila euro ma diciamo che se ci mettesse sopra il nome richard mille quello lì costerebbe 10 milioni di euro ecco no non sto scherzando quindi ecco diciamolo chiaramente bene per oggi breve video con questa novità ho finito vi ringrazio vi saluto iscrivetevi al canale mettete like e al prossimo video ciao